Tornate a mare la terra in provincia di Arezzo, una notte di paura a Pieve Santo Stefano, dove alle 2.40 circa è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1. Stanotte alle 2.39 a Pieve Santo Stefano, a 9 km di profondità, c'è stato magnitudo 3.1 che è stato sicuramente avvertito anche dalla popolazione, almeno quelli che erano suelli. Quello che sappiamo noi non ha fatto i danni, nessuno si aspetta danni ma non si sa mai e quindi sì, un terremoto che per questa zona non è una sorpresa. In Valtiberina sono state registrate anche altre scosse seppur di più lieve entità. C'è stato un 1.9 e altre scosse minori finora e questo è anche aspettabile, da aspettarsi dopo il magnitudo 3.1 fa sempre delle scosse. Ci sono i terremoti che servono a riescire a stare l'equilibrio che è stato disturbato anche dalla scossa stessa. Una notte di paura dunque in Valtiberina e molti sono stati svegliati dalla scossa nel cuore della notte, alcune persone addirittura sono scese per la paura e strada, numerose anche le chiamate fatte ai vigili del fuoco. L'epicentro è stato localizzato a pochi chilometri da Pieve Santo Stefano ma il sisma è stato avvertito anche a Sansepolcro e in altri centri della Valtiberina. La terra nella notte ha tremato anche ad Amatrice, territorio duramente colpito dai devastanti terremoti dello scorso agosto. Può esserci una connessione tra questi due terremoti? Allora, lì trovare causa e effetto è molto difficile e anche si trova il tempo che cerca. Alla fine l'Alto Tiberina non ha bisogno delle scosse di Amatrice. Ora, le scosse di Amatrice al momento non sono così forti che uno possa aspettarsi che ineschino anche terremoti qua nelle nostre aree. E quindi, cosa che eventualmente con le scosse forti di ottobre non era da escludere. Allora, l'alto Tiberina non ha bisogno delle scosse forti che uno possa aspettare.